Il Paradiso delle Signore nuove puntate, potrebbe scoprire un tradimento di Marco. L'appuntamento con il Paradiso delle Signore 7 prosegue nel Daytime pomeridiano di Rai 1 e in vista delle nuove puntate potrebbero esserci dei colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Marco, che in vista del finale tornerà a Milano e la sua presenza potrebbe avere a che fare con la gravidanza di Gemma. Al punto che rischierebbe di compromettere per sempre la sua relazione con Stefania. Le anticipazioni delle nuove puntate del Paradiso delle Signore 7 rivelano che Marco tornerà di nuovo a Milano eppure questa volta al suo fianco non ci sarà Stefania. La figlia di Gloria ed Ezio si è ormai trasferita stabilmente in America e non ha messo più piede a Milano. Al punto da intraprendere un nuovo percorso professionale che la rende felice. Questo ritorno di Marco, nel corso delle battute finali della settima stagione, potrebbe avere a che fare con un altro argomento che sta tenendo banco nel corso delle puntate in onda attualmente su Rai 1, la gravidanza di Gemma. La gravidanza della Venere è ancora avvolta nel mistero assoluto, dato che fino a oggi non si conosce con esattezza il nome del padre col quale è stato concepito questo bambino. Gemma ha solo confermato che non si tratta di Carlos, il ragazzo col quale ha avuto un fleur nei mesi scorsi. Ma non si è mai sbilanciata sulla vera identità del padre e di suo figlio. Di sicuro, nel corso delle puntate precedenti del Paradiso delle Signore 7, c'è stato un avvicinamento importante tra Gemma e suo ex Marco. I due si sono ritrovati a vivere insieme dei momenti di grande tenerezza e non si esclude che alla fine possano essersi lasciati andare alla passione travolgente. Sebbene quelle scene non siano state trasmesse in televisione, c'è chi ipotizza che tra Marco e la sua ex Gemma ci sia stato del tenero. Al punto che la ragazza starebbe nascondendo a tutti che Marco è il vero padre di suo figlio. Questo ritorno inatteso del ragazzo, nel finale della settima stagione, non fa altro che acuire ancora di più i dubbi. A questo punto non si esclude che, nel corso delle nuove puntate del Paradiso delle Signore, Marco possa uscire allo scoperto e confessare a tutti, compresa la sua fidanzata Stefania, quanto sarebbe accaduto con Gemma. Il sospetto è che Marco possa decidere di assumersi le sue responsabilità per la gravidanza della Venere in modo da compromettere per sempre la sua relazione con Stefania. Grazie a tutti. Grazie.